Sarebbe bastata una transenna per salvare la vita di Niccolò Bizzarri, il 21enne disabile che nel gennaio del 2020 si ribaltò con la sua carrozzella in una buca di Piazza Brunelleschi e morì per le conseguenze di quella caduta. È la convinzione della Procura di Firenze che ha recapitato a tre indagati l'avviso di conclusione delle indagini. Omicidio colposo, l'accusa, le ipotesi di reato, vengono contestate ad un ingegnere di Palazzo Vecchio, responsabile della manutenzione stradale, e a due figure apicali di AVR, il Global Service che è all'appalto della manutenzione delle strade del Comune di Firenze. Il PM, Alessandra Falcone, con l'ausilio della Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale, ha spulciato i contratti fin nelle virgole e ha contestato delle omissioni che avrebbero pregiudicato le condizioni della piazza antistante la facoltà di lettere, frequentata dal giovane studente fiorentino. La Procura addebita i tre indagati, ognuno per un profilo relativo al proprio impiego, di non aver segnalato la buca, di non essere intervenuti neanche con un avviso temporaneo che avrebbe messo in guardia i passanti, e per quanto riguarda l'ingegnere del Comune, di non aver sorvegliato sulla qualità del servizio fornito dalla ditta appaltatrice.